Audizione ieri in prima commissione affari istituzionali a Palermo sul disegno di legge di variazione dei confini territoriali dei liberi consorsi e che riguardano in particolar modo Gela, Piazza Almerina, Niscemi e Licodia e Obea. Comuni che attraverso il referendum hanno deciso di staccarsi dall'ex provincia di appartenenza. Erano presenti i sindaci delle città interessate e i componenti dei comitati per lo sviluppo dell'area gelese e gelensis popolus. Tutti hanno ribadito di volere aderire alla città metropolitana di Catania nel rispetto delle scelte effettuate dai consigli comunali e dalle popolazioni. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, nel suo intervento si è soffermato sui danni incalcolabili che queste comunità subiranno rimanendo in questo pericoloso limbo che ostacola la programmazione e le iniziative collettive con gli altri comuni della città metropolitana di Catania. Il primo cittadino di Piazza Almerina, Filippo Mirodi, ha sottolineato la necessità di dare risposte certe e immediate agli elettori e alle popolazioni coinvolte nel rispetto delle regole che una democrazia si dà attraverso le leggi. Hanno detto loro anche i rappresentanti delle varie associazioni. Non è piaciuto l'intervento del deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Giuseppe Arancio, il quale ha reiterato la sua contrarietà alla scelta di queste comunità di passare con la città metropolitana di Catania. Arancio, si legge in una nota diffusa dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, ha adotto argomenti ritenuti assurdi e pretestuosi al solo scopo di suggerire ai membri della prima commissione gli appigli per rinviare il più possibile ciò che oramai è inevitabile e, secondo gli altri presenti, improcrastinabile. L'assessore regionale alle autonomie locali, Luisa Lantieri, invece ha ribadito che i referendum sono validi. Ciò è stato comunicato dall'Ufficio Legislativo Regionale con provvedimento già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ora si tratta pertanto di prendere atto di scelte già fatte nel rispetto delle leggi vigenti. Il Presidente della prima commissione, sottolinea invece Giorensis Populus, ha dichiarato che a suo parere questa vicenda risulta ingarbugliata e poco chiara, aggiungendo che l'articolo 2 della legge sui vivi di consorsi, che parla della definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari, pone molti problemi all'amministrazione regionale sulle procedure di suddivisione. Nonostante queste dichiarazioni negative emerse dall'incontro, il Comitato Giorensis Populus non si rende rilanciando di volersi fare portavoce delle stanze dei cittadini del gelese, istanze che saranno portate in ogni sede consentita proprio per difendere un percorso che i gialesi hanno diritto a vedere finalmente concluso.